E se non si presenta con una particolare univocità che pure ha, evidentemente Bassano perisce come gli altri tribunali che magari è giusto che vengano chiusi. Bassano no, altri sì. Perché Bassano invece è no e gli altri è bene che vengano chiusi? Non l'abbiamo mai evidenziato a sufficienza. Da lì dobbiamo ripartire. Forse per salvare il tribunale di Bassano non è stato fatto tutto il possibile. Achille Variati esprime più di un dubbio su come sia stata gestita la questione che ha portato all'intasamento della giustizia in provincia con quella chiusura in via Marinali ribadita anche da un voto della maggioranza parlamentare che sostiene il governo Renzi. Ora poi che sembrerebbe prospettarsi anche la chiusura del giudice di pace di Asiago, quello dell'amministrazione della giustizia nel Bassanese assume sempre più i caratteri di un'emergenza. Ma nella nuova veste di presidente della provincia di Vicenza Achille Variati deve fare i conti anche con i continui tagli che arrivano da Roma in ogni settore. Tagli drammatici tanto da mettere in dubbio l'effettiva operatività dell'ente e il sindaco di Vicenza prende in considerazione l'ipotesi estrema. Queste realtà, province, aree vaste, chiamiamole come vogliono, come vogliamo, devono avere quel minimo di risorse, pur in una logica di rigore, per poter dare questi servizi essenziali. Se è così, io ci resto come presidente e farò la mia parte per contribuire anche al risanamento del debito del Paese. Se non è così, tanti saluti.